Ciccio Graziani ha detto la sua, la proposta della Superlega lo ha visto subito contrario, l'ho detto in tv nella trasmissione dove è protagonista e lo ha rimadito anche in queste ore davanti al fallimento della stessa. Io non riesco ancora a capire come persone intelligenti, come Agnelli, come Florentino Perez, potevano pensare di poter riunirsi in una cantina a lume di candela, per non farsi vedere da nessuno, e dire adesso sai che facciamo? Tiriamo fuori un progetto e un torneo solo per noi grandi. Ma non hanno fatto i conti senza l'oste, perché tu non puoi pensare di mettere su un torneo di questa importanza con queste squadre da poter poi regalare al mondo intero, perché poi quello è un programma che andava principalmente in giro per il mondo, senza l'avallo o la partecipazione o la compartecipazione di due enti estremamente importanti, che sono gli enti più preposti a gestire questo nostro mondo, che sono la UEFA e anche la FIFA. Senza il loro consenso, senza passare attraverso una loro presa di posizione e decisione, ma come potevi pensare che ti potevi fare un torneo come ritenevi giusto fare tu? Era impensabile!